Per cui mi sento obbligata a scrivere a Londra e informare chi di dovere. Quello che ieri le ha fatto Miles è un episodio senza dubbio molto grave. Ma si potrebbe anche considerarlo come lo scherzo di un bambino, no? Signorina, le dà noia la luce stamattina, eh? No, perché? Mi stavo domandando come mai... Che cosa? Che bisogno c'è di mettere un velo stando in casa? Sgualdrina! Era più una malattia, una febbre che la divorava, anime e corpo che la sfiniva. Non c'era cattiveria che lei non sopportasse. Se la picchiava, oh, perché l'ho visto io sbatterla per terra, lei lo guardava, lo guardava come per chiederne delle altre. Senza orgoglio, senza pudore, si sarebbe trascinata ai suoi piedi, sulle mani e sulle ginocchia. Lui serpente rideva con quella sua risata triviale. Oh, mi fa male ricordare.